Allora quest'anno è stato un anno davvero brutto da dimenticare perché c'è stata tanta morte e tanta tristezza però a Natale si può fregare di più, si può fare di più come dice la canzone poi a Natale poi ecco quella e quindi noi speriamo forse 2021 sarà ancora meglio ma non solo in quello, non dobbiamo solo parlare ma dobbiamo anche fare qualcosa quindi noi se ci aiutiamo e facciamo qualcosa pure noi ce la faremo Buon Natale a tutti Buon Natale da Doctor Doom Buon Natale e buon anno a tutti Buon anno nuovo a tutti Passate belle vacanze per Natale Buon Natale da Spider-Man Buon Natale a tutti e siamo sempre felici Buon Natale a tutti e viviamo questo anno come abbiamo sempre fatto non può fermarci su un solo virus e anche buon fine anno Voglio augurare Buon Natale e felice anno nuovo e spero che il 2020 tutto questo periodo di Covid finisce e vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella così ogni volta che faremo un video vi arriverà la notifica Grazie 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 Grazie